Sapete, ho sentito dire che un colpo uguale a quello ricevuto può far tornare un uomo in sentimenti. Sì, l'ho sentito dire anch'io. È vero, figuratevi che mio zio colpì mio padre a tradimento qui al cervello e poi gli mollò un secondo colpo per finirlo. Ma il mio vecchio invece di crollare si svegliò, si scaraventò addosso a mio zio, che poi era suo fratello, e lo fece secco. Perché non ci provate? Mi spiace, vecchio mio, ma può darsi che la puzzola abbia ragione. Eh beh, non riesce mica sempre. Sì, l'ho sentito dire anch'io. Eh... Sì, l'ho sentito dire anch'io.